Ben trovati amici di Infocilento con il consueto appuntamento di approfondimento dei risultati sportivi del fine settimana. In attesa della semifinale nazionale che vedrà impegnata l'US Agropoli contro Lisernia domenica allo stadio Raffaele Guariglia, iniziamo il nostro approfondimento dal basket. La polisportiva basket Agropoli cade di misura sul campo del Cercola per 75-74. Nonostante i ragazzi di coach di concilio abbiano condotto la partita per larghi tratti escono sconfitti di misura. Adesso appuntamento per gara 2 sempre a Cercola, giovedì ore 20 e 30. Impresa invece delle ragazze della New Basket Agropoli Pestum che sbancano il Pala Cosmelli di Livorno, superando per 50-52 il basket Livorno e aggiudicandosi gara 1 delle semifinali nazionali per la promozione in A2. Appuntamento per la gara 2 decisiva ai fini della promozione domenica al Pala di Concilio. Passiamo adesso al Volley, sconfitta netta per il Volley Agropoli al Palazzingaro di Sala Consilina contro l'AS di Free Fox per 3-7-0. Infine concludiamo con una notizia di Natural Bodybuilding, altro grande successo per l'atleta Giussi Sansone che guadagna la qualificazione per il campionato ICN Miss Universo di Natural Bodybuilding che si terrà a Seul il 10-11 giugno. Ed è tutto per la rubrica di approfondimento sportivo dei risultati del fine settimana. Appuntamento alla prossima. Ridiamo la linea a Manuel Chiariello.